Fa chiamare Pietro. È tempo. Pietro, quando sarai morto e sepolto, che ci indicherà la giusta via da seguire? La fede non significa spiegare ogni cosa. La fede è viverla e camminare nella luce che è sopra di noi. Chiedono prove che dimostrino che noi possediamo la verità. Credi che il Signore ti abbia abbandonato? Piena di grazia. Lunedì alle 20.30.